Culle vuote nell'agro, un dato sconcertante emerge dall'analisi condotta dall'osservatorio politiche giovanili di Nocera Inferiore e pubblicata sul mensile di Ocesano Insieme. Nonostante la voglia di famiglia sia sempre forte, ci sono però sempre meno possibilità per formarne una e soprattutto sempre meno stimoli a mettere al mondo un bambino. Il tema è stato discusso ieri sera nell'aula consigliare del comune di Nocera Inferiore, alla presenza del sindaco Maglio Torquato durante il convegno senza figli non c'è futuro. Viene fuori che il tempo dei fiocchi rosa o azzurri è finito. Se dal 1911 al 1991 in questo territorio dell'agro la popolazione aumentava al ritmo del 20% annuo, nell'ultimo ventennio si è assistito ad un calo drammatico. La crescita si è fermata al 7,7 per mille. Uno sviluppo che se negli anni passati era scrivibile alla considerevole presenza di immigrati, oggi è destinato ad arrestarsi perché neanche gli stranieri sono più una risorsa in termini di nascite. In tutti i comuni presi ad oggetto nel 2014 sono nati appena 2.539 bambini. La Palma d'Oro va ad Angri con 361 nati lo scorso anno, mentre reggono Nocera Inferiore, 350 bambini, Pagani 348 e Sarno 284. Angri cresce inoltre rispetto al 2013. Dall'osservatorio politiche giovanili rilevano però che ad avere la peggio è proprio il comune considerato capofila dell'agro, ovvero Nocera Inferiore, a spaventare il saldo naturale, ovvero il rapporto tra nascite e morti. Il 2008 è stato l'ultimo anno in cui si è registrato il segno più. Da sei anni invece i numeri hanno il segno meno davanti. Nel 2014 il saldo ha registrato un meno 66. Dati importanti che sono stati letti ieri dal sociologo Raffaele Sibilio e su cui anche la Chiesa locale ha voluto dire la sua con il Vescovo Monsignor Giuseppe Giudice. Penso che sia una cosa importante in questi giorni, in tutto il lavoro scientifico, diciamo così, che è stato fatto, proprio di raccolta dei dati. Abbiamo seguito per vedere dove ci sono i fiocchi. Comentre prima era più un dono, una realtà che ne accoglievamo del Signore, oggi ci sono molte difficoltà. E la grande paura è la paura del futuro. Ecco, questi giorni stiamo celebrando un sinodo, sinodo ordinario sulla famiglia, che io lo chiamo questo terapeutico. C'è stato l'anno scorso, l'altro è diagnostico per una situazione, però certamente c'è quasi la paura di accogliere un figlio. Mentre prima il figlio era un dono, una ricchezza nella famiglia, oggi sembra quasi un peso. Allora come rinnovarsi, come recuperare? Altrimenti, non lo sappiamo, l'Europa è destinata ad invecchiare. Le colle sono vuote, le situazioni sono difficili, però ecco il senso della speranza. Accogliere la vita e dare alla vita il primato, perché il passaggio che mi sembra oggi un poco delicato, è che le cose hanno più importanza della vita. E allora se le cose hanno più importanza della vita, la vita non è accolta. Un specifico è un po' complicato, però due o tre questioni sulle quali forse vale la pena di approfondire questa tematica sono da un lato l'incremento forte della dimensione della precarietà che ovviamente genera un'incertezza nei confronti del futuro. E quindi se noi diciamo senza figli non c'è futuro, il problema è proprio che l'incertezza del futuro genera probabilmente meno attenzione a questa problematica. precarietà, parlo di una situazione nella quale forse i giovani in questo momento sono meno propensi ad affrontare condizioni di rischio nel momento in cui vedono troppa incertezza.